Ben ritrovati a Torino Web News, scopriamo insieme gli appuntamenti culturali di questa settimana cominciando dalla serata di martedì 18 marzo alle 20.30, al massimo 1 ci sarà la proiezione del documentario Bruno Caccia, una storia ancora da scrivere per la regia di Elena Ciccarello, Davide Pecorelli e Cristian Nasi, un documentario che racconta la vita del procuratore della Repubblica di Torino, ucciso dall'andrangheta il 26 giugno del 1983. Per la serata di mercoledì 19 marzo invece alle 20.45 al teatro Carignano, spazio al teatro di Edoardo De Filippo, sulla scena Toni e Peppe Servillo porteranno le voci di dentro, un affresco della nostra società tra ipocrisia e corruzione. Giovedì invece una serata dedicata al cinema perché al massimo 3 alle 20.30 ci sarà la proiezione in lingua originale con sottotitoli ovviamente di The Wolf of Wall Street, il film di Martin Sconsense, protagonista della scorsa stagione con Leonardo Di Caprio nei panni di un broker, Jordan Belfort, broker di Wall Street che sconta circa 20 mesi di prigione per aver rifiutato la sua collaborazione in un'inchiesta per frode nell'ambito della Wall Street corrotta degli anni 90. Biglietti che qui vanno da 5 a 7 euro. Musica invece protagonista venerdì 21 con il concerto all'Hiroshima alle ore 10 con ingresso fissato a 10 euro dei torinesi, anzi dei rivolesi, perturbazione che tornano a Torino aprendo il loro tour dopo i successi del Festival di Sanremo. Chiusura del sabato dedicata ancora una volta al teatro ma questa volta un teatro diverso, un teatro per i più piccoli, infatti alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani alle 21 andrà in scena Veggie Garden, l'orto della compagnia olandese Squeeze, uno spettacolo adatto ai bambini da due anni in avanti, uno spettacolo che racconta il difficile percorso di crescita attraverso la danza, attraverso la danza nella terra e la metafora del seme e del suo germogliare e crescere. Per questa edizione è tutto, noi vi diamo appuntamento a venerdì con la nostra prossima edizione andremo alla scoperta della mostra allestita al Parco di Arte Vivente di Torino, SIC VOS non vorbis.